allora amici di calciopasso mentre bomber cristante se la butta dentro e quest'anno non è nemmeno la prima volta quindi diciamo già già due gol all'attivo o al passivo che dir si voglia la roma vince 2 a 1 passa agli ottavi non si è fatto male nessuno e questa è una cosa buonissima la cosa più importante diciamo che nel doppio confronto la roma ha dimostrato una qualità tecnica de gran lunga superiore rispetto al braga e dispiace stasera aver visto tanti passaggi sbagliati perché la metà almeno poteva essere capitalizzata in maniera migliore mi è piaciuto molto mi avviso migliore in campo giordan vere tu che ha dimostrato dove metti gioca bene si è coperto tutta la fascia ha dimostrato che sa difendere molto più del bruno peres per esempio il nome a caso e su quella fascia lui e casdorp secondo me sono veramente una garanzia dovremmo riuscire a trovare anche una situazione del genere dall'altra parte perché bruno peres va bene poi mi è piaciuto anche molto diavara devo dire io non lo considero non considero diavara un giocatore che ha ampi margini e cresce e c'è questo insomma non può diventare più di questo però voglio dire come rincalzo secondo me è un buon giocatore stasera ha disputato secondo me un'ottima partita soprattutto a livello difensivo ha macinato il gioco ha rubato un sacco di palloni a me è piaciuto sono contento del ritorno di stefano sharawi giocatore che io amo molto e si vede che ancora non è la classe è cristallina lo sappiamo pesa un palo eccesso di precisione lo sappiamo tiro a giro stupendo tra l'altro è arrivato il gol di Dzeko in quella frangente ma si vede che ancora gli serve minutaggio gli serve minutaggio perché comunque il sharawi è un giocatore che quando parte te lascia sul posto e ancora non è diciamo quello il sharawi però con minutaggio sulle gambe lo può diventare non mi è piaciuto molto molto Pedro non mi è piaciuto chi è che non mi è piaciuto no vabbè ma alla fine insomma tutto sommato ecco non mi è piaciuto il rigore calciato da da Pellegrini con quella sufficienza con il sartello sefrocerie famole fa ai giocatori brasiliani famole fa a Giorginio te tira i rigori in maniera un po' più custodita perché comunque magari non serviva stasera eccetera però se in una partita dove mi serve i tre punti mi devi ricoverere il genere io ti vengo a cercare sotto casa basta poi per il resto comunque si è fatto perdonare una bellissima apertura stupenda avere il gol di Carles Perez che altro di Dzeko comunque si è battuto vediamo che forse arriva anche il 3 a 1 perché mi è uscito il pop up e quindi magari ve lo do in diretta Karsdorp fa proseguire Carles Perez che avanza ho visto molto bene questa sera grandissima apertura e Borca e Borca timbra Borca timbra sempre ragazzi Borca è giocatore io ogni volta che segna gli devo chiedere scusa perché l'ho definito l'orso Jogi nelle prime uscite lo vedevo pesante ma se viva chiaramente te prende condizione Borca Majoral è giocatore vero c'è un cazzo da fare ed è molto più attaccante come predisposizione a mio avviso De Dzeko De Dzeko è molto più trequartista lui è molto più proprio attaccante lui sta là 3 a 1 sono contento Roma agli ottavi ciao